1005 1005 1005 almeno una cinquantina speriamo no deve dire 105 ragazzi voglio fare un programma perciò a Ferrara no no è una roba velocissima sono tifosissima da sempre della Juventus sono praticamente bianconera da quando ero piccola piccola siamo la radio ufficiale della Juventus speriamo di portare anche giocatori qualcuno in radio che faccia felice ovviamente non solo noi che siamo comunque gli addetti a lavori a radio 105 siamo qua con Camoranesi quanti fuori gioco ti fischieranno quest'anno? 105 siamo qua con Ciro Ferrara Ciro ci puoi dire quale sarà il numero della tua maglia quest'anno? ma quello di sempre è una vita che indosso il 105 e porterò ancora il 105 anche quest'anno che sarà l'ultimo per me che mito però lui è migliore a un altro livello no tu altro livello altra catena sono già ben genna sì no ma come l'ultimo sarà l'ultimo lo tagliamo per me per me non per voi non è vero grazie Ciro molto piacere c'è tre autografi ho lasciato in un'agentità se te ne vedi fino a Torino per me solo 100 no poi dopo ti diciamo io credo 105 anche tu 105 no no 106 oh una cinquantina una cinquantina dillo a noi va bene va bene a Radio 105 siamo qua con David Triseguet David quanti gol vorresti segnare in questa stagione? mi auguro di arrivare a 105 a 105 siamo qua con Alessio Tacchinardi Alessio con quanti punti chiuderete il campionato quest'anno? speriamo uno in più degli altri perciò noi 105 e vinciamo lo scudetto siamo qui con Nicola alle grottaglie Nicola quante interviste ci concederai quest'anno? ma spero 105 spero